Grazie, è l'ora. All'angolo rosso, l'atleta di casa, angolo blu, angolo blu, scusate perché anche io, l'atleta di casa vuol dire quintese, Ryu Vittoria. Bravo amico! A salto meno 56. Va bene Ricky, quando inizia? Allora, tutto inizia, non ne le mette pas il milieu, non ne le mette pas il milieu. Allora, va bene, prendi la place, prendi la place, prendi la place au milieu. Non, va bene, prendi la place au milieu. On prende il milieu. On prende il milieu. On prende il milieu. On prende il milieu. Très bien. Garde il milieu. Va vite. Voilà. On prende il milieu. C'est ça Ilona. Et sort. Sort. Voilà. On prend le milieu. Taille. On prend le milieu. On prend le milieu. Garde le milieu. Voilà. Allez va la faire reculer. Fais la reculer. Très bien. Allez fais la reculer. Fais la reculer Ilona. Fais la reculer. Tout de suite. On prend le milieu. Allez va. Allez va. Allez va. Allez va. Allez va. On prend le milieu. Voilà. Très bien. On prend le milieu. On prend le milieu. On prend le milieu. Allì 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 Ciao ciao Brava Vito Allì 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 Sì, sì, sì. Non lo so ne va, non lo so ne va Vai Vito, resta Ah va Vito Très bien Vai Vito, vai Vito Sì, 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 sì. Grazie! Echis! 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 Prends il medio! Stop! Bravo! Bravo Vito! Grazie! Guarda il medio! Guarda il medio! Guarda il medio! Guarda il medio! Vito! Plus ae! Covid153 Guard κ ha쪽. Guarda il medio! Guarda il medio! Guarda! 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 Me lo que c'est! Un po' nel centro. I suoi ilo, non è finita, capisco. C'è bene. Dai Dai Brava Brava Piero Piero Lascia la di Dai Vito Dai 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 Vito, che sei grande! Dai Vito! Dai Vito, che Vito! Dai Vito! Dai, dai, dai! Dai Vito! Bravissimo, un applauso a queste due! Verdetto unanime vince Shikun Ilona! Si abbracciano sportivamente, vorrei fare un grosso applauso perché questa è anche la sportività delle nostre due ragazze che ci sono affrontate ma poi alla fine abbracciate, quindi questo è anche lo spirito del nostro sport. Complimenti!